Sindacati in Regione e i ferricorti, di nuovo il caso dell'azienda unica di trasporto abruzzese torna a creare spaccature su scelte e gestione dopo la tanto attesa fusione. La questione ora ruota attorno a diversi punti che hanno portato la Filt CGL alla dichiarazione di sciopero regionale per il 13 maggio prossimo. Tra le motivazioni compaiono drastica riduzione delle risorse destinate al settore, 10 milioni di euro in meno e ancora mancata individuazione dei servizi minimi garantiti e delle regole, vede il caso, dei vettori privati che si sovrappongono alle tratte regionali, la mancata realizzazione del pubblicizzato biglietto unico e la privatizzazione dei servizi commerciali. Uno sciopero che abbiamo indetto per contestare la politica regionale sui trasporti, a cominciare dalla questione delle risorse che è fondamentale. La regione Abruzzo, io lo ricordo, ha tagliato già nel bilancio 2015 ben 10 milioni di euro dal Fondo regionale dei trasporti. Oltre a questo taglio c'è un taglio imposto dal governo nazionale, dal governo Renzi, che ha interessato ben sei regioni a statuto ordinario, tra le quali c'è l'Abruzzo. Il taglio per l'Abruzzo incide per 8 milioni di euro. Ad aggiungersi allo sciopero poi arriva anche la cosiddetta procedura di raffreddamento o stato di agitazione, dove si contestano i servizi di noleggio Gran Turismo, che risulterebbero in costante perdita, le attività in concorrenza sui servizi essenziali, le emissioni di bandi di selezione interna in assenza di un regolamento avanzato e di un confronto tra le parti per l'organigramma, l'assenza di attività di verifica circa l'evasione, come richiesto dal mese di ottobre a Gran Voce, e anche l'assenza di un'amministrazione trasparente, accusandoli di gravi violazioni e mancati adempimenti delle norme relative. La regione Abruzzo non ha individuato i servizi minimi, nonostante ci fosse la sentenza del Tar, che aveva già lanciato un grido d'allarme rispetto a questa situazione. Questo ha determinato che adesso dei vettori privati si interpongono all'azienda pubblica facendo i servizi di TPL e anche dei collegamenti importanti che collegano l'Aquila con Roma.